Estendere l'apertura del dormitorio sociale di Via Lago Sant'Angelo a tutto l'arco dell'anno. Questa è la proposta che arriva dall'Udc, dal capogruppo Massimiliano Pignoli, che questa mattina ha ascoltato anche l'assessore al disagio sociale Nicoletta D'Inisi. Una proposta fattibile, Pignoli. Nulla osta rispetto a questa tematica, ovviamente sendendo il parere positivo anche degli assessori. Quindi adesso si parlerà a un secondo livello, cioè sarà quello di mettersi intorno al tavolo e sarà quello di concordare con chi gestisce attualmente per il piano freddo Via Lago Sant'Angelo, l'ex scuola, per vedere se questa proposta, anche da parte loro, ha le gambe per camminare. Che cosa produrrà questo stato di fatto? Sicuramente un migliauramento del decoro urbano nella città di Pescara, perché attualmente è l'unico dormitorio disponibile per, non voglio definire il crociarlo, perché non sono soltanto loro. Lì ci sono anche pari di famiglia che hanno perso il lavoro, che hanno perso la casa, ci sono donne che ovviamente si trovano nella stessa condizione. Di queste persone che vivono in uno stato sociale abbastanza difficile, dicevo, potremmo evitare un miglioramento, come ho detto prima, del decoro urbano, perché la Caritas ha dei posti limitati. Quindi la Caritas li ospita per 15-20 giorni e poi fanno a turno. E queste persone sono costrette, quindi poi con i sacchiappelli, a invadere, tra virgolette, la nostra città, quindi davanti alla stazione, quindi i parchi, le panchine, eccetera. Certo, non risolverò il problema nei crociardi a Pescara, sarei un pazzo nel definire questo. Sicuramente un'attenuazione del problema ci sarà sicuramente. On the road è riuscito a dare delle buone regole. Dobbiamo dire che oggi Pescara si ritrova con meno crociard. Certo, ci sono ancora tante altre persone che per scelta non vanno lì a dormire, noi ci aspettiamo sempre in un miglioramento, però oggi possiamo dire che per la prima volta siamo riusciti anche a correggere quelle che erano prima i fastidi, per esempio fino all'anno scorso si è parlato che anche il vicinato aveva dei problemi con queste persone, invece oggi possiamo dire di avere avuto ottimi risultati.